Ciao gente, 1997, un formidabile anno di sole per vecchie e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci dappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas. LOS NIÑOS DEL PARQUE 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 LOS NIÑOS DEL PARQUE